L'Emilia Romagna e la Riviera Romagnola puntano a mettere in sicurezza entro giugno spiagge, alberghi, camping, parchi acquatici e tematici. Parte la campagna di vaccinazione che riguarderà oltre 40.000 operatori dipendenti del settore turistico, da Piacenza a Rimini. Dalla spiaggia di Cesenatico, gli assessori Donini Corsini annunciano la convenzione con l'associazione ASL, attraverso la quale l'Emilia Romagna sarà la prima regione che vaccinerà tutti i lavoratori della filiera turistica. Partiremo nella prima settimana di giugno, a cavallo del 7 di giugno, come prevede l'ipotesi di convenzione con le associazioni di categoria e quando partiranno anche le vaccinazioni nei luoghi di lavoro. Entro giugno contiamo di vaccinarli tutti, saranno ovviamente vaccinati nei nostri hub, quindi nei nostri centri vaccinali, ma sulla base di una convenzione che stipuleremo con le associazioni di categoria. Siamo alla prima regione in Italia, al di là degli annunci che fanno altri, che concretamente dal 7 giugno vaccina tutti i lavoratori della filiera del turismo e naturalmente è un'operazione sanitaria, ma anche di comunicazione. Vogliamo appunto trasmettere l'idea, che non è solo un'idea, ma è un fatto concreto, che in Emilia Romagna si può venire a fare una vacanza in sicurezza perché vaccineremo tutti i lavoratori degli alberghi, dei campeggi, dei parchi, degli stabilimenti termali e ovviamente degli stabilimenti balneari. Grazie a tutti!